Consultazioni adesso per il programma, prima ancora dei veri candidati? Certo, perché la centralità del programma è massima, è la nostra massima attenzione rendere ai cittadini di Roma la vita più vivibile. Molto concentrati su Roma e le altre città? Sembra un po' che vogliate giocarvela tutta qui. Assolutamente no, Roma ovviamente è la capitale, è una città di importanza indiscussa e quindi ci siamo concentrati su quella. Peraltro sono deputata romana quindi è ovvio che sia così in particolare la mia attenzione.